Oggi è stata la giornata di Franchesi, la giornata del Presidente, ma partiamo dalla fine della giornata, non dall'inizio che non è stato piacevole. Guardate queste immagini, che esce oggi pomeriggio, qualche minuto fa, dalla sede. Perché Franchesi è stato in sede? In questo momento non abbiamo fondate notizie, ma come il mio idolo, uomo di Becky Street 221B, Sherlock Holmes, il personaggio di Sir Arthur Conan Doyle, vado per deduzioni. Qualche settimana fa, e l'avevo detto agli amici che mi seguono sul mio canale YouTube, avevo detto attenzione, più che il grande incontro con Atanganà, Chessi, Massara, Maldini, per eventualmente trovare la soluzione all'annoso problema del rinnovo del contratto, sarà importante, questo mi avevano detto qualche settimana fa, il faccia a faccia tra Maldini e Chessi. Perché Maldini vuole capire in un faccia a faccia, dopo quelle parole splendide del Presidente, voglio sempre, voglio rimanere a vita al Milan e altri grandi complimenti su questo, su questa unione Chessi-Milan, voleva capire dopo le parole di Franchesi anche guardare l'espressione, capire se ci fossero veramente delle reali, realissime, come tutti crediamo, come tutti auspichiamo, come tutti vogliamo, le reali intenzioni di firmare e di rimanere uno dei leader per i prossimi due, tre, quattro, speriamo tre, quattro anni. Allora, oggi che sì, è andato in sede. Ripeto, non sappiamo come è andato, perché si è andato in sede, ma il titolo del mio video di oggi, lasciatemi il punto interrogativo, colloquio faccia a faccia che si Maldini, punto interrogativo. Andremo poi a sapere, poi magari col mio video di domani mattina, sempre molto seguito, andremo a capire e vi dirò se ci sono delle notizie riguardo a questo. Magari è andato a ritirare le chiavi della macchina nuova, sapete che l'accordo con il nuovo sponsor auto, ma magari è andato a parlare perché ce l'avevano detto che sarebbe andato ai primi giorni di agosto, la prima settimana, poi che si era impegnato con le Olimpiadi, poi ha preso qualche giorno di riposo ed ecco, quindi questo potrebbe essere la tempistica giusta per questo colloquio. Quindi vi terrò al corrente, ma lasciatemi questo titolo. Colloquio faccia a faccia e sarebbe un colloquio importante, perché dopo questo colloquio si possono aprire mille scenari positivi, magari invece qualche dubbio potrebbe venire a Maldini, ma io sono ottimista, voglio pensare positivamente e mi auguro che sì, che mi sembra un tipo così, assolutamente ribadisca anche con l'espressione, la sua intenzione sottolineata con quelle parole bellissime di qualche settimana fa, direttamente dai colleghi della Gazzetta, da Tokyo. Allora, però la giornata, come dicevo, era iniziata non bene per Frenchesi, o meglio, era ieri che è successo un infortunio, è capitato, è accaduto, che Frenchesi si infortunasse. Un problema ai flessori, dovrebbe essere un problema di lieve entità, però se c'è la lesione, direbbero i maestri Monti, Tavana, Mazzoni, se c'è la lesione, signori, è aritmetico. Due settimane, se è una lesione non gravissima, due settimane di riposo, poi la ripresa e quindi Frenchesi lo vedremo in campo o contro la Lazio, probabilmente l'11 di settembre, o a metà mese, nella prima partita di Champions League, ovviamente bisognerà capire il 26 se il Milan giocherà in casa fuori e quindi sarà l'avversario. Che cosa comporta, ed ecco l'altro argomento caldo della giornata, che cosa comporta l'infortunio di Frenchesi? Alla logica, anche qui andiamo per deduzione, ma è una deduzione molto facile, non serve scomodare Sherlock Holmes, per deduzione andiamo a pensare che ci sarà una accelerazione per i due candidati, metto sempre in primo Yassin Adli, un'accelerazione per poter consegnare a Stefano Pioli all'inizio della settimana, quindi 8-9 giorni prima, Adli, ad appunto a Stefano Pioli pronto per eventualmente andare in panchina nel match di lunedì sera, 23 contro la Sampdoria. Nessuno mi dica sì ma ha una settimana di preparazione, no, il giocatore ha giocato anche nel debutto del Bordeaux pur sconfitto col Clermont-Ferrand, ma oltretutto può allenarsi una settimana, è già rodato, è già rodato, stando così le cose non dovrebbe giocare la partita tra Marsiglia e Bordeaux domenica sera. Nessuno poi mi dica che non possa essere sufficiente una settimana di preparazione con Stefano Pioli insieme ai suoi compagni per non essere già pronto almeno per la panchina per il match come dicevo del 23, anche perché Adli è un ragazzo intelligente, come lo era Fanbom, è arrivato lunedì o martedì e mercoledì era già in campo nella perdita di Coppa Italia a Genova, mi sembra contro la Sampdoria, quindi Adli ha tutte le possibilità di essere a disposizione, di essere il terzo centrocampista pronto per la partita di Marassi. È un ragazzo intelligente, ho letto delle cose, oggi ve le trasmetto, suona piano, suona il piano. Come ricordate Simone Romagnoli, Simone Romagnoli difensore centrale della primavera che ha vinto la Coppa Italia, un ragazzo molto intelligente che si è messo lì in un servizio che ho effettuato per Mediaset a suonare il piano Chopin per lì nella sala del caminetto dove c'è il pianoforte. È un ragazzo che gioca a scacchi, quindi mente pronta, mente forte, mente che sa, che sa essere flessibile, veloce, rapida, attenta. Quindi un giocatore, un ragazzo soprattutto completo, un ragazzo, un ragazzo che può entrare nel Milan portando dei, i famosi valori. Ci auguriamo dunque che venga accelerata l'operazione con lui o anche con Grilic che rispetto ad Adli è un giocatore più esperto, più giocatore, visto che è uno dei giocatori che ha partecipato all'europeo con l'Austria, centrocampista dell'Austria, di una squadra che come ricordate ha impegnato, lo ricordavo ieri, che ha impegnato l'Italia in Coppa nell'ultimo europeo. Dunque il Milan potrebbe anche accelerare le operazioni per Adli o in generale per il centrocampista, ma non si dica adesso il Milan deve andare a prendere un altro centrocampista. Si sapeva già, cioè non è adesso il Milan, si sapeva già, si sapeva già. Vi ho sempre detto che il Milan questa settimana avrebbe cercato di chiudere per il terzino e lo farà all'inizio della settimana prossima Florenzi e poi per un mediano. È venuta fuori la voce da Bordeaux di Adli, abbiamo approfondito, può essere lui, anche Grilic può interessare. Si sarebbe fatto uguale. Non è che se con l'infortunio di che sì, che il Milan perderà per un mese cambiano le cose. Le cose non cambiano. Il Milan voleva il centrocampista e andrà sul centrocampista e poi andrà sul trequartista e poi vedrà se prendere qualcuno sulla fascia destra e poi vedrà se andare a prendere anche un ragazzo giovane per potenziare l'attacco, la fascia centrale dell'attacco. Per buona pace di chi dice già che non siamo pronti, perché vedono acquisti di altre squadre, gli ultimi, allora gli altri sei che stanno per diventare otto, sembrano i 60-70 milioni, sembrano non presi. Il giocatore più caro, Tomori, sembra non essere mai venuto al Milan, perché gli altri hanno preso dei giocatori negli ultimi due giorni. Eh signori, equilibrio, signori, equilibrio, signori, equilibrio. La campagna acquisti ha portato sei e arriveranno otto, che potrebbero essere nove, anzi che saranno nove e potrebbero essere undici. Equilibrio, signori, equilibrio. Ma c'è un'altra notizia della sera, devo verificarla ma mi arriva direttamente dagli agenti, da agenti spagnoli. Sembra che l'accordo per l'accessione di Castiglieco al Getafe sia ormai cosa fatta. Ripeto, mi è arrivata dalla Spagna, devo ancora verificarla, ma intanto ve la do. Dagli agenti, da un agente spagnolo, diciamo così, dall'ambiente degli agenti spagnoli, danno per fatto Castiglieco al Getafe. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrani.